Siamo felici di essere insieme a voi oggi, è un giorno che abbiamo aspettato con tanta ansia, con tanto amore perché è un appuntamento importante per noi e quindi siamo felici di essere qui, di essere in tanti e vogliamo passare insieme un giorno costruttivo e arricchente per il nostro cammino personale come coppia e anche per coloro che sono a servizio della famiglia. Siamo felici, salutiamo Sua Eccellenza, la ringraziamo di essere con noi, ci tenevamo che lei venisse, che stesse con noi non solo per la celebrazione della Santa Messa e quindi la ringraziamo di essere qui. Abbiamo con noi Gregorio Vivaldelli, Gregorio, il professore che è una persona... Ecco, vuoi dire tutte le parole su Gregorio? Beh, su Gregorio, Gregorio ormai ha calcato parecchie volte la nostra Ragusa e quindi tanti lo conoscono, chi non lo conosce lo conoscerà oggi e ha dei talenti nel dire le cose senza fare venire l'abbionco. È sposato con Emanuela che è sempre presente con lui anche se non c'è fisicamente perché quando parlate con lui, lui parla sempre di sua moglie, della sua famiglia, ha quattro figli, una bellissima famiglia e poi è un biblista, insegna sacra scrittura, diciamo anche questo. Quindi insomma, basta, non parliamo più perché già è anche un po' tardi, quindi commenti come vuoi Gregorio, lì qui come preferisci. Buongiorno a tutti, buona domenica, buona domenica. Un saluto anche da parte di mia moglie che l'ho sentita stamattina, mi ha chiesto come va. Ah, è durissima, le ho detto. È durissima, è durissima. Eccellenza, buongiorno, grazie del suo invito. Un caro saluto a tutti i volti già noti, anche a quelli nuovi. Allora, vorrei subito entrare nel nostro argomento, nell'argomento che mi è stato affidato, che è un bellissimo argomento. Per fortuna mi hanno detto che abbiamo 18 ore a disposizione. Per fortuna, perché è un argomento talmente bello, talmente bello che se al termine della mia relazione non dovesse risultarvi bello, è solo colpa mia, perché è un tema di quelli, io direi come ho messo nel sottotitolo, profetico. Profetico nel senso biblico del termine. Quando la Bibbia parla di profezia, quando la Bibbia parla di profezia, non parla tanto di preveggenti, cioè di nostradamus per capirci, non è semplicemente la previsione del futuro. Il profeta biblico è quella persona che sa leggere il presente alla luce della parola di Dio, cioè che sa attualizzare, per usare un termine un po' più tecnico, che sa attualizzare la Torah, la legge, il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, la sa realizzare nel contesto vitale nel quale si trova ad operare. Quindi, da un punto di vista cristiano, fermarsi a riflettere sull'educazione e la corresponsabilità, perché mi pare che il tema pastorale proposto dal vostro vescovo è educhiamoci alla corresponsabilità. Soltanto specificare questi due termini ci richiederebbe tanto tempo, ovviamente noi cerchiamo soltanto di dare degli spunti per la nostra riflessione e anche per i vostri lavori di gruppo che seguiranno questa relazione. Vorrei soltanto dire due parole innanzitutto sul tema della educazione, che come sappiamo è il tema che i vescovi italiani ci hanno proposto per questo decennio, vivere la vita buona del Vangelo. Allora, l'educazione, cosa significa oggi parlare di educazione? Guardate che tra educazione e corresponsabilità vuol dire che abbiamo deciso di parlare di cose che non ci inviterà mai la Maria De Filippi a parlare alla televisione. Noi parliamo di realtà che anche con i nostri stessi figli avremo delle difficoltà. Se qualcuno di noi dovesse candidarsi a qualche impegno sociale politico sono temi che attirano pochi voti e attira di più la protesta o la protesta fine a se stessa. educare significa andare al fondamento dell'esistenza umana. L'attività dell'educare, dell'educatore, il percepire il proprio servizio, il proprio ministero, la propria chiamata, la propria missione, la propria chiamata matrimoniale nel nostro caso, ma possiamo estenderla a qualunque tipo di chiamata, significa viverla come educatori, significa decidere di fronte a una casa che sta accadendo, significa decidere non limitarsi a pitturarla esteriormente. Di fronte a una casa che sta accadendo, educare significa avere il coraggio di abbattere quello che c'è da abbattere, consolidare quello che c'è da consolidare, educare significa andare alle fondamenta e verificare se le fondamenta sono solide. Educare significa andare alle fondamenta dell'esistenza umana. Educare significa andare alle fondamenta delle nostre relazioni. Per la Bibbia significa andare a prendersi cura delle quattro dimensioni relazionali fondamentali, vale a dire la relazione con noi stessi, con gli altri, con Dio e con il creato, soprattutto quella con Dio che porta tutte le altre relazioni. Per la Bibbia se non ci educhiamo a prenderci cura di queste relazioni, lo ripeto, con noi stessi, con gli altri, con Dio e con il creato, se non ci educhiamo rischiamo di vivere una vita di seconda mano. Che cos'è? Anche come sposi, cos'è una vita di seconda mano? Una vita che si basa soltanto su quello che decidono gli altri. Vivere una vita che piace all'opinione di maggioranza. All'opinione di maggioranza. Questo significa vivere una vita di seconda mano. L'educazione, soprattutto l'educazione cristiana, l'educazione che mette il Vangelo come prospettiva di vita, come proposta di vita gioiosa, l'educazione spingerà sempre, nel nostro caso i coniugi, ma ogni persona, ma nel nostro caso i coniugi, le famiglie, a vivere una vita di prima mano, cioè di giocarsi completamente. L'educazione, diceva quel grande educatore che fu San Giovanni Bosco, l'educazione è questione, diceva testualmente, l'educazione è questione di cuore. Ma non di cuore a livello, bisogna essere dei sentimentaloni, di cuore nel senso biblico. Il cuore nella Bibbia non è solo la sede dei sentimenti, il cuore è la complessità di tutta la persona. Educare col cuore significa lasciarsi coinvolgere con tutta la propria persona. Il vero educatore non è tanto colui che dice delle parole, ma è colui che prende il proprio cuore, lo butta in mezzo alla strada e lo fa calpestare dagli altri. Questo è l'educatore. L'educatore è colui che vive totalmente quello che cerca di trasmettere con tutte le sue capacità, ma anche con tutte le sue fragilità. L'educatore non si baserà solo sulle sue qualità, ma scommetterà anche sulle sue fragilità. Pensate noi come genitori, io prima di avere figli avevo quattro idee sicure su come educare i figli, io lo dico sempre questo. Adesso ho quattro figli e le idee latitano. Io voglio dire, se qualcuno vuole chiedermi qualche suggerimento su come educare i figli, si rivolga a me, perché io faccio tesoro dei miei errori, io sono un esperto di errori. Io so che nel mio cammino come educatore non posso escludere i miei sbagli. Non posso escludere i miei sbagli, anzi la logica cristiana, che soprattutto in questo tempo di quaresima la chiesa cerca di insegnarci, la logica cristiana ci dice che paradossalmente la bellezza di quello che dobbiamo insegnare passerà anche attraverso la nostra debolezza, anche attraverso i nostri errori. Il genitore perfetto nella prospettiva cristiana è colui che utilizza la propria debolezza per trasmettere la propria fede o i propri valori, eccetera, eccetera. Quindi capite che l'educazione taglia la radice qualunque forma di vittimismo educativo. Eh ma ormai io sono così, ma io non ce la faccio, non sono molto preparato, oppure i miei figli, io credo una cosa e i miei figli fanno tutta un'altra. Io vorrei che i miei figli frequentassero la chiesa, ditemi cosa ho sbagliato, mi sento un genitore fallito, quante volte ci sentiamo dire nella nostra, magari non lo diciamo, magari la nostra coscienza ce lo rimprovera. Ma nel momento in cui abbiamo cercato di vivere il Vangelo abbiamo scoperto che l'unica cosa che resta è l'amore. E se tutto ciò che noi cerchiamo di fare lo cerchiamo di fare con amore, questa è la formula sicura per l'educazione, l'educatore cristiano. Un grandissimo personaggio, il cardinal John Henry Newman, non so se l'avete ancora sentito, un grandissimo personaggio, molto amato da diversi papi, come motto cardinalizio ebbe questo, cor ad cor loquitur, vale a dire è il cuore che parla al cuore, è il cuore che parla al cuore. Quindi quando il nostro Vescovo, perché io sono un membro onorario della diocese di Ragusa, allora quando il nostro Vescovo ci propone il tema dell'educazione, dopo ovviamente parliamo subito della corresponsabilità, ma dell'educazione è un invito a tirare fuori il cuore del nostro essere mogli, mariti, genitori, il cuore. Non puntare a chissà che cosa, ma il cuore a fermarci come coniugi, a guardarci e provare a dirci che cosa è essenziale, su cosa dobbiamo scommettere, su cosa dobbiamo crescere come educatori all'interno della nostra famiglia, ma anche all'interno della nostra comunità ecclesiale, anche all'interno della nostra porzione di società nella quale viviamo, all'interno dei nostri ambienti lavorativi, perché paradossalmente anche lì dobbiamo essere educatori, che non significa essere persone che si mettono in cattedra per parlare, ma persone che con il loro stile di vita, con il loro modo di fare, di essere, di utilizzare anche gli sguardi, cercano di trasmettere dei valori. Quindi l'educazione è, come dire, la sfida più grande e coraggiosa che i nostri vescovi potevano suggerirci. Perché è l'educazione. Significa non arrendersi, significa avere il coraggio di lavorare per il futuro. Significa riuscire a pensare bene. Questo è l'educatore. Avere una visione positiva, come molti di voi in questa giornata che siamo stati insieme, ma anche adesso l'abbiamo condiviso, viviamo tutti sulla Terra, non è che viviamo su Marte, vediamo le grandi difficoltà sociali, politiche che tutti noi viviamo, la preoccupazione per i nostri figli, per il futuro dei nostri figli. Noi dobbiamo aiutarci però a terminare i nostri confronti dicendo la storia è saldamente in mano a Dio, educarci a questo, riuscire ad avere un pensiero positivo che parte dal nostro impegno come educatori. Però ovviamente non è tanto sull'educazione quanto sulla corresponsabilità che noi dobbiamo parlare. Ma ho voluto fare questa premessa perché la corresponsabilità non è tanto un'idea da capire con la testa, ma è un concetto che deve paradossalmente educarci. Il tema corresponsabilità chiede da noi la disponibilità ad essere educati. Facendo un gioco di parole, educarci ad educarci. Dobbiamo educarci ad educarci alla corresponsabilità. Perché la corresponsabilità è una questione molto ma molto profetica. Allora, alcuni presupposti della corresponsabilità. Quando parliamo di corresponsabilità. Che cos'è la corresponsabilità? A livello familiare, io stringo un po' il campo all'interno della nostra chiamata principale. Ripeto, sarebbe da estenderla ad ogni ambiente vitale. La corresponsabilità. La corresponsabilità. Parlare di corresponsabilità è il tema della responsabilità, no? Ma la corresponsabilità in un tempo come il nostro dove si educa alla deresponsabilizzazione. Si cresce in un contesto culturale nel quale è sempre colpa di qualcun altro. Si vive sempre il Genesi 3, il capitolo terzo del Genesi, quando il Signore cerca di capire cosa è successo, o meglio di far dire ad Adamo ed Eva cosa è successo, la strategia difensiva di Adamo ed Eva è di scaricare, c'è un bellissimo quadro del Domenichino dove si vede Adamo che è in una posizione così verso la donna e la donna in una posizione così verso il serpente. Cioè l'atteggiamento antropologico è quello che è sempre colpa di qualcun altro. Ci sono problemi a scuola? Mio figlio ha problemi a scuola? Colpa degli insegnanti. Il figlio viene a casa, le lezioni di latino è colpa dell'insegnante e tu dai la colpa all'insegnante pur di sostenere tuo figlio e educhi tuo figlio paradossalmente alla deresponsabilizzazione. Mentre il tema responsabilità dice cosa io posso fare per. In una situazione di tensione il tema della responsabilità ci educa a formulare dentro di noi subito questa domanda. Cosa posso aver fatto io per aver causato questa situazione? Non subito concentrarsi sul... Bene, questa è la responsabilità. La corresponsabilità è ancora più impegnativa perché la corresponsabilità prevede che c'è una responsabilità, una responsabilità in generale. Non siamo nell'ambito familiare, pensiamo nell'ambito ecclesiale. Allora abbiamo la fortuna di avere qui il nostro vescovo. È chiaro che la responsabilità della diocesi è del nostro vescovo. Alla fine delle decisioni spetteranno soltanto a lui, ma in una prospettiva ecclesiale è stato pensato questa cosa bellissima, il sinodo, la mentalità sinodale, la corresponsabilità. Avete mai sentito parlare del sinodo, sinodos, camminare insieme, camminare insieme, camminare insieme al nostro vescovo cercando di sentire nostra la vita della diocesi, cercando di espormi, cercando di proporre affinché la decisione finale possa essere arricchita, la decisione finale del nostro vescovo possa essere arricchita dai contributi di tutti. Capito? La responsabilità. All'interno della famiglia la corresponsabilità è particolarmente significativa. Perché c'è, noi pensiamo subito alla corresponsabilità nell'educazione dei figli. Cioè voglio dire, di chi è la responsabilità nell'educazione dei figli all'interno della famiglia? Della mamma? Del papà? Più della mamma? Del papà? Di quali ambiti? Quali ambiti? Allora io parlo di come tenere la casa, di sesso parli tu. Quando diventano adolescenti. Esistono adolescenti in Sicilia? Ci sono adolescenti? Quella razza c'è anche qua? Ah sì c'è anche qua. Voi cosa fate? Li tenete in gabbia o liberi? Quelli che loro non parlano, grugniscono. Lui gli risponde, come va? Ci sono anche da voi? A tavola, a tavola. Quelle creature che una volta erano loquaci, che parlavano, ad un certo punto arrivano ad un'età che non parlano più. Gli chiedi una cosa. Scusa, porta sulla da noi, porta sulla legna, no? Perché noi, porta sulla legna, suota la vostra miglia. E questa cosa qua. Bene. Chi parla a loro? Bene. Allora, a livello di educazione con i figli, la corresponsabilità, avremo modo di parlarne abbastanza chiaramente. Ma all'interno della vita coniugale, la corresponsabilità. Ecco, non voglio andare subito nel cuore, perché proprio dai vostri acceni dei volti ho capito che bisogna parlare di questo, però vorrei fare delle premesse assolutamente indispensabili. Assolutamente indispensabili. Alcuni presupposti della corresponsabilità nella prospettiva cristiana, perché non stiamo parlando semplicemente di corresponsabilità sociale, politica. Noi stiamo parlando di corresponsabilità in una prospettiva ecclesiale. Noi siamo qui radonati come Chiesa, come Chiesa, come corpo vivente di Cristo, che ha a cuore, che ha a cuore la trasmissione della fede, che per quanto ci riguarda è trasmessa attraverso la nostra particolare chiamata matrimoniale. Allora, alcuni presupposti. La corresponsabilità si basa su un assunto che Gesù ha posto come legge fondamentale per la vita di ogni suo discepolo. Fare dono di se stessi. La persona corresponsabile è quella persona che ha percepito il dono di sé come lo stile di vita fondamentale. La corresponsabilità ha bisogno, la corresponsabilità cristiana ha bisogno, di persone che si aiutino a comprendere che il proprio io non è il punto centrale dell'esistenza. Io capisco che nell'ambiente culturale nel quale noi viviamo dire questo mi fa prendere pochi voti. Mi fa prendere pochi voti. Perché noi viviamo in un contesto che ci piaccia o non ci piace, gli studiosi lo definiscono postmoderno, addirittura alcuni postumano, pone il soggetto, l'individuo, al centro. Conti tu. E noi lo respiriamo anche come coppia. Quindi tu mi vai bene nella misura in cui mi fai felice, è chiaro? Nella prospettiva cristiana la corresponsabilità invece è esattamente l'opposto. Io sono corresponsabile della mia vita coniugale nel momento in cui metto la gioia dell'altro al primo posto. Paradossalmente la gioia dell'altro è più importante della mia gioia. Paradossalmente se io sono felice e lei non è felice, io non sono felice. Paradossalmente se lei è felice e io sono meno felice per vari motivi, paradossalmente io sono felice perché sono corresponsabile. Perché sono corresponsabile. Perché Gesù ha detto chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Adesso non dobbiamo pensare mortificazioni da, che ne so, da monaco cistercense, che ne so. Non dobbiamo pensare. Il Vangelo dice che il rinnegare se stessi significa iniziatutto rinnegare il proprio io. L'idolatria del proprio io, il mettere noi stessi, le nostre idee, il nostro schema a livello di vita coniugale. Io ho un'idea della formazione dei nostri figli, dell'educazione e tu ne hai un'altra. Il presupposto della corresponsabilità cristiana ci impone la capacità di fermarci, di aprirci, di provare a valutare insieme. Di valutare insieme l'idea che ho io non è l'idea assolutamente giusta. Non è l'idea assolutamente giusta. Quindi la prima, chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Quindi la corresponsabilità è la capacità di non mettere se stessi al primo posto. Secondo presupposto, vado un po' più veloce. La nostra vocazione, nella prospettiva della corresponsabilità, è una chiamata missionaria. Noi sappiamo che, per la teologia cristiana, ogni chiamata è missione. La missione è costitutiva di ogni dimensione vocazionale. Cioè non esiste una vocazione che si esaurisca in se stessa. Una persona, la Bibbia è piena di questi personaggi, che una volta chiamati vanno. Che una volta chiamati vanno. Quindi, la coppia corresponsabile è una coppia che si coglie missionaria. Che scopre che la propria coniugalità, ma anche la propria genitorialità, non è fine a se stessa. Non si chiude nel proprio nucleo familiare. La propria esperienza familiare diventa una vera e propria azione missionaria. Cioè della serie. Della serie. Se io di fronte a una discussione, anziché chiudermi, impormi sulla mia idea, cerco di aprirmi e di valutare insieme, col mio coniuge, quale potrebbe essere la soluzione migliore. Cerco di mettere in discussione le mie idee, i miei schemi, le mie chiusure, i miei pregiudizi. Cerco, cerco. Bene. Nella prospettiva cristiana, se io faccio questo all'interno della mia casa, in realtà io agisco come un missionario nel Burundi. Io mi prendo cura della vita della Chiesa universale. Se io cerco come coniuge, come genitore, di crescere, di educarmi, di lasciarmi educare alla corresponsabilità in questo senso, io sono un missionario. A volte releghiamo la missione soltanto ai grandi invii. Ai grandi invii, in realtà, in realtà, in realtà, se noi facciamo lo sforzo di giocarci un po' sulla corresponsabilità nella nostra famiglia, noi diventiamo missionari. Terza, qual è il territorio della nostra missione familiare? Perché qui stringo il cuneo, perché mi è capitato di parlare di questi argomenti anche in altri ambienti, non soltanto all'interno di una pastorale familiare. Però qui stringo il cuneo, nel senso che parliamo della nostra vocazione specifica. Qual è il territorio della nostra missione? Il territorio. Cioè, della serie. Quando io sono fuori da questo territorio, io devo capire che c'è qualcosa che non va bene. Il territorio della nostra corresponsabilità, della nostra missione, è la quotidianità. Tutto ciò che ci allontana dalla nostra quotidianità, ci allontana dalla nostra missione, fosse anche l'esperienza religiosa. Se la nostra preghiera ci allontana dalla nostra realtà familiare, dai nostri problemi, dalla nostra... che è fatta di andare a fare la spesa, di riuscire a organizzare il tempo, di riuscire a portare... Chi porti il figlio, porti tu a scuola, chi va a parlare con l'insegnante del figlio... Problemi di salute, problemi economici... Questi non sono cose parallele alla nostra vocazione cristiana. Ma si tratta di essere corresponsabili in maniera cristiana, lì dentro, senza fuggire da quella responsabilità. Dalla quotidianità della nostra vita parrocchiale, dalla quotidianità della nostra vita ecclesiale, dalla quotidianità del nostro servizio, so che molti di voi sono impegnati anche così nell'educazione delle giovani coppie che si prendono cura, insomma, dei fidanzati. Fa parte della nostra quotidianità, non dobbiamo pensare a servizi, come dire, straordinari. Quindi, perché dico questo? Non so se vi è capitato di vedere un film di alcuni anni fa che si titolava Silenzio. Era un documentario sulla giornata tipo di un monastero, mi pare, cistercense. Mi pare, vero? Dove si vedeva la giornata di queste persone che avevano scelto questo tipo di vocazione. Una cosa bellissima, no? E soprattutto aveva colpito alcune persone per il fatto che a mangiare, quando era a pranzo, c'era un silenzio assoluto e c'era la lettura, un alezio, era lezio divina o anche un alezio di padri della chiesa. E mi ricordo benissimo. Oh, che bello, si diceva a un convegno familiare, che bello, che meraviglia. Allora, io ho detto, guardate, se quella è la prospettiva per tutti, io sono pagano. Perché se venite a casa mia, a casa mia, le invasioni barbariche parlano tutti. O non parla nessuno perché hanno tutti il muso, no? Parlano tutti. Se tu vuoi parlare, se vuoi organizzare la giornata, non parla nessuno. Oppure ci sono i momenti che tutti parlano e litigano tra di loro i figli perché chi vuole parlare. Tu stai parlando e quell'altro ti parla sopra. Allora se vieni a casa mia, a casa mia ti sembrerà di essere in territorio pagano. Eppure le nostre tavolate, dove a volte è difficile parlare, dove a volte parlano tutti, dove si spera non ci sia la televisione accesa. Ecco, questo sì, questo potrebbe essere corresponsabilità. Io la lancio così per le vostre discussioni nel gruppo, non dobbiamo essere dei giudici moralisti. Però, capite, la televisione a tavola potrebbe essere un segno di famiglie profetiche. Io non dico togliamo la televisione dalla cucina, ma perché a volte è comune la mattina, sei da sotto e guardi un TG, va bene. Ma avere il coraggio di averla lì, spenta. E avere il coraggio di dire spegnila, dillo tu. Perché sai che chi lo dice sarà martirizzato dai figli. Tu lo sai che chi lo dice vedrà la croce entrare, ti metteranno in croce e tu passerai per il Torquemanda, la Sancta Inquisizione, no? E verranno fuori i discorsi. Verranno fuori... Adesso mi tolgo la giacca. Verranno fuori i discorsi. Ma le altre famiglie, gli altri genitori, io sono stato a casa della mia amica, loro ce l'hanno sempre accesa. E hanno quello con 85 pollici, 22 indici e 4 anulari. Sempre accesa, no? Il cellulare. Chi lo dice che è troppo presto? Questo, in seconda elementare, lo smartphone. Chi lo dici tu o lo dico io? Diglielo tu. E il papà? No, dai. Diglielo tu. È roba della mamma o del papà? E noi papà? Non è che diamo troppe incombenze alle nostre spose? Perché abbiamo paura di perdere l'affetto dei nostri figli. Cambiamo argomento? Quando non ero padre dicevo queste cose con più leggerezza. Ma a volte noi abbiamo paura di perdere l'affetto dei nostri figli. Perché, soprattutto parlo a noi maschietti, se le signore possono distrarsi in un momento, e noi a volte, come dire, ci deresponsabilizziamo perché sappiamo che alcune prese di posizione sono antidemocratiche. Sono antidemocratiche. Però lì, no, guarda, il cellulare non lo prende. Bisogna riuscire però a reggere l'onda d'urto del piagnisteo da telefono azzurro. Nella mia classe ce l'hanno tutti. Sono l'unica nell'emisfero boreale a non avere il cellulare. Riuscire a reggere il contraccolpo. Porti come baluardo insuperabile. Porti come il nemico. Porti come il genitore. Che vadano pure a piangere dalla madre. Ma perché? E la madre, se è corresponsabile, non va a dire al figlio hai proprio ragione, il papà è proprio duro. Vedete che te lo prendo io il cellulare. È chiaro, avete già intuito che questa non è corresponsabilità. È la fatica di tenere insieme, magari dicendo semplicemente se il papà ha valutato così, ma l'ha valutato insieme prima, no? Se il papà ha valutato così, va bene. E allora si troverà un muro. Noi dobbiamo dare ai nostri figli l'opportunità di odiare qualcuno. Questo non ve l'aspettavate? Dobbiamo dare la possibilità ai nostri figli di capire che noi non siamo i loro amici. Il corresponsabile, il responsabile, sa che non è chiamato come genitore essere l'amico dei figli. E viviamo in un contesto culturale nel quale i genitori passano per gli amici dei figli. Anche nel modo di vestire, di parlare, di scrivere gli SMS. Che conti ti vuoi? E perché così tu pensi, entri, no? Nel loro linguaggio, non è vero. Loro hanno bisogno, hanno bisogno di vedere un SMS che si è scritto dal loro genitore che si è scritto con i punti e le virgole giuste. Perché noi non siamo giovani. In un'epoca giovanilista, il responsabile sa quale età è chiamato a vivere. Noi siamo chiamati... La corresponsabilità ci educa, vedete, educarci a stare nella nostra età. Educarci a diventare adulti. Perché, insomma, io non so, qui in Sicilia, a volte noi in Trentino facciamo tanti errori da questo punto di vista. Perché a volte ci comportiamo come non adulti. Come non adulti. perché non ci assumiamo le nostre responsabilità. Non è facile. Non è facile. Non è facile. Ecco perché io apprezzo molto questo tipo di iniziative che fate voi. Cioè il potersi incontrare insieme, il creare rete tra di noi. Io lo apprezzo molto. Perché abbiamo bisogno di confrontarci come Chiesa, di stare insieme. Tra il resto la presenza del Vescovo, insomma, da un punto di vista teologico, ci fa essere veramente pienamente Chiesa in questo momento. In questo momento. Ma io lo dico, chi mi conosce sa che sono molto libero da questo punto di vista. Però, in questo contesto culturale, o ci muoviamo come Chiesa, o la Maria dei Filippi ci tritura. Ma ci mettiamo in confronto ai reality show, noi. Ma vogliamo... I nostri figli non ascoltano mica il Vivaldelli, eh. I nostri figli hanno altri maestri di pensiero. Che ci piaccia o non ci piaccia. E se ci illudiamo che da soli, come coppia, se ci illudiamo che da soli ce la faremo a trasmettere l'educazione che vogliamo dare, la grande intuizione di Gesù è stata quella di generare la Chiesa. Non dei singoli che vanno a diffondere il Vangelo, ma la Chiesa. Ma la Chiesa. Noi, è importantissimo che ci muoviamo insieme, che ci confrontiamo. E quando abbiamo dei dubbi, di confrontarci, di aiutare, quando abbiamo delle paure, quando soprattutto sbagliamo, abbiamo bisogno di sentire che anche qualcun altro ha sbagliato. Se noi ci sentiamo falliti e chi si percepisce fallito si de-responsabilizza. Si de-responsabilizza. Allora, questi sono i presupposti, quindi non stiamo parlando di pasta alla norma. Ma stiamo parlando. Allora, la corresponsabilità, dobbiamo subito, la corresponsabilità familiare, è, dobbiamo aver chiaro la differenza tra il collaboratore familiare e il corresponsabile familiare. Facciamo proprio, mi permettete, questa distinzione linguistica, ma che è contenutistica, tra collaborazione e corresponsabilità. In ogni ambito della vita. Ma nella vita familiare, questo è fondamentale, nella vita di coppia, un conto è essere collaboratori dell'educazione ai figli, collaboratori della nostra vita coniugale. Allora, chi è il collaboratore? Allora, il collaboratore è colui che aiuta, che dà una mano, magari con grandi slanci di generosità, il collaboratore, ma senza portare il peso della missione familiare. senza portare il peso. La missione familiare è fatta di scelte, è fatta di momenti di silenzio, è fatta di momenti di velocità e di momenti di rallentamento. Il collaboratore non si espone mai. Non si espone mai. Dai, posso prendere il cellulare? Dai, comprami il cellulare, chiedilo alla mamma. Stasera posso uscire? Chiedilo alla mamma, chiedilo alla papà. Capito? No, chiedilo alla papà va sempre bene. Nel senso che il padre dovrebbe essere quel muro, dopo che ci si è messi d'accordo, dovrebbe essere quel muro invalicabile contro il figlio, contro il cui il figlio deve andare a sbattere la testa. Dobbiamo, dobbiamo noi padri essere il limite dei nostri figli, almeno fino a una certa età. Il limite, perché intanto dopo li trovano fuori i limiti e se non hanno imparato prima che la vita è fatta di limiti, si troveranno spaisati. perché tutto è un limite, perché fuori tutti gli metteranno dei limiti, illudendogli che potrà fare qualunque cosa. Illudendogli, ma in realtà ci sono limiti dappertutto. dappertutto. Allora, il collaboratore non si espone mai, privilegia un tipo di relazione esecutiva. Esecutiva. Il corresponsabile, per quello che dicevo che questo tema è particolarmente profetico, guardate che se ci aiutiamo, perché nessuno qua può ergersi a maestro, è qui semplicemente, io sto condividendo con voi qualcosa, se ci aiutiamo come coppie a diventare corresponsabili, veramente diventiamo profetici, diventiamo quello che il Vangelo definirebbe sale della terra. Avete presente? La città sul monte, avete presente il discorso della montagna, la città sul monte, capitolo 5 di Matteo, la città sul monte, la città sul monte ha questa caratteristica, la vedono tutti, che piaccia o non le piaccia, la città sul monte la vedono tutti. Una lampada, dice Gesù, non è accesa per essere messa sotto il moggio, una lampada è accesa per essere vista, per illuminare, voi siete il sale della terra, se diventiamo corresponsabili, diventiamo sale, il sale è un simbolo straordinario nel Vangelo, uno si chiede, cos'è il sale della terra? Io so cos'è il sale per concimare, so cos'è il sale per condire, so cos'è il sale per conservare, so che vedo che il sale, ovunque lo metti, dà tono all'ambiente nel quale lo metti, cioè, infatti lui dice, se il sale perdesse il suo sapore, con cosa lo si salerebbe? Non servirebbe a nient'altro che essere, se i genitori, noi potremmo dire, non sono corresponsabili, ma con cosa li si potrebbe responsabilizzare? Se i genitori non sono corresponsabili, se la coppia non è corresponsabile, se un cristiano non è corresponsabile, ma cosa serve? Cosa serviamo? Se noi cristiani non siamo sale, poi c'è anche l'immagine dei blocchi di sale, nell'antichità servivano come catalizzatori per accendere il fuoco, il sale serviva, voi siete coloro che accendono il fuoco, il fuoco, il fuoco del Vangelo, voi siete il sale della terra, cosa serviamo? Cosa serviamo se non ci aiutiamo a crescere in responsabilità? E non è un cammino semplice, soprattutto a livello coniugale, guardate, a me preme di più quasi a livello coniugale che è genitoriale. Cioè il prenderci cura, essere responsabili della gioia dell'altro e dell'altra. È la nostra prima missione. L'eredità più grande che noi possiamo lasciare ai nostri figli è l'attenzione che noi diamo al nostro coniuge. L'eredità più grande. Io arrivo a dire piuttosto trascuriamo i figli. L'ho detta la seconda, meditate nei gruppi. Piuttosto trascuriamo i nostri figli. Piuttosto che trascurare la nostra vocazione coniugale. Per la teologia è il nostro amore coniugale che è segno della fedeltà e dell'amore di Dio. Anche per i nostri figli. Anche per i nostri figli. È per questo che esorto tutti nel giro di due settimane di prendersi l'impegno di uscire una sera voi due da soli. e i figli vi diranno dov'è che andate? Esco? Cosa andate? È un altro incontro lì della parrocchia? No, esco per una cenetta con tua mamma con tua papà e loro ti guarderanno come gli extra... Avete presente i cani quando non capiscono? Avete presente? Che vi guardano così? E vi guardano come se foste dei malati. Voi non entrate troppo nei particolari ma dovreste fateli capire che loro non sono i soggetti più importanti. È il vostro coniuge. È il dono più grande che potremmo fargli. È il dono più grande. Perché quando i nostri figli si accorgono di essere loro più importanti crescono un po' al centro della terra come quella pubblicità no? Tu c'è il ruoto intorno a te. Questo è il dramma. Volete che cambi argomento? Va bene. Andiamo avanti ancora un po'? Quando è che mi devo fermare? Ditemi voi. Quando vedo il primo svenire? Allora il corresponsabile il corresponsabile è colui che non dà solo una mano nella vita familiare. Il corresponsabile familiare è colui che sostiene un sogno comune. Lo sostiene. Fa fatica fa la fatica di elaborare un progetto. Fa la fatica di fermarsi. È una fatica una volta che arrivi che è casa stanco sei preoccupato. Le cose non vanno bene. Sei incrociato salendo le scale di casa tuo figlio adolescente che esce e gli ha chiesto dove vai? E che ti senti ma com'è? Ma il mio modo di parlare? Sai che se ti arrabbi ottieni il contrario. lascia andare le cose. La fatica di dire fermarti con la tua moglie e con tuo marito e dire ma ascolta qui cos'è che possiamo fare per migliorare questo aspetto? Cosa possiamo fare? Ma questa situazione a me pare che non vada bene mi pare che non ci stiamo dedicando del tempo oppure mi pare che questo servizio in parrocchia dovremmo farlo in questo modo mi pare che magari coi figli perché non chiediamo un parere? Perché non ci facciamo aiutare? è la fatica il corresponsabile è colui che non aspetta che non è sempre tirato a traino a traino e tante volte ci capita ma mica per cattiveria a volte succede di lasciarci trainare dall'altro ma è una forma di deresponsabilizzazione allora il corresponsabile è colui che si carica sulle spalle il peso la gioia e il peso ma sottolineerei la gioia della propria vocazione la gioia si prende sulle spalle l'incarico di far sì che la gioia scorra nella propria vocazione che si prenda sulle spalle lo sforzo di generare gioia e uno dice è presto ma la gioia è ad esempio tornare a casa il corresponsabile sa che molto dipende dal volto con cui entra in casa questa è la teologia del quotidiano è la teologia del quotidiano c'è la chiesa fa iniziare l'anno con una lettura bellissima magari la riprendo il pomeriggio tratta dal capitolo 6 dei numeri il signore faccia risplendere su di te il suo volto lo illumini faccia risplendere il tuo volto ma immagina il volto sereno il volto sereno è il più grande dono di corresponsabilità perché tante volte non abbiamo motivi per essere sereni ma la scelta di avere un volto sereno non è facile è il peso della corresponsabilità perché la gioia il 50% spetta a me spetta a me il 50% spetta a me c'è un decalogo un decalogo per corresponsabile familiare allora ve lo elenco è materiale un po' per la vostra per la vostra condivisione nei gruppi non vorrei soffermarmi troppo allora il primo mi sono dimenticato un passaggio adesso ho letto quando vi parlavo del territorio della mission che il nostro territorio è la quotidianità non dobbiamo dimenticarci che nel nuovo testamento le case private sono state i luoghi di costituzione della chiesa nascente se noi andiamo a leggere gli atti sia i Vangeli ma anche gli atti degli apostoli soprattutto la chiesa è nata nelle case private e quindi c'è sempre la casa di la casa di si trovavano nella casa di e anche Gesù quando doveva rivelare qualcosa della profondità della propria identità dopo essersi manifestato all'esterno magari in una sinagoga nelle piazze i segreti più profondi della propria rivelazione li esponeva in una casa privata la casa di Pietro avete presente ad esempio la guarigione della suocera di Pietro dopo il Vangelo non specifica se Pietro è rimasto contento ma adesso andiamo era una battuta soltanto allora un decalo vi leggo vi leggo una vi leggo questo decalogo però lo vorrei mettere soltanto come materiale di discussione no? primo il corresponsabile primo deve rispettare e stimare il coniuge e i figli questo rispettare e stimare il corresponsabile deve rispettare deve stimare il coniuge se non c'è questo presupposto noi non riusciremo mai a vivere un'autentica corresponsabilità secondo rispondere insieme di scelte decisioni orientamenti familiari allora rispondere insieme lo ripeto rispondere insieme lo ripeto rispondere insieme sono stato abbastanza chiaro rispondere insieme noi siamo corresponsabili quando è stata presa una decisione ecco perché è importante che parliamo ma alla fine i nostri figli devono vederci uniti e se non siamo d'accordo discutiamone in disparte non davanti ai figli non davanti ai figli ma noi dobbiamo essere corresponsabili ma questo pensate dobbiamo estenderlo anche possiamo estenderlo anche a livello ecclesiale per esempio sentirci come dire di rispondere insieme di uscire dal coro delle cornamuse che si lamentano della tua parrocchia della tua diocesi del tuo parroco del tuo vescovo e del vivaldelli che viene a parlare è sempre quel che viene a parlare è sempre lui uscire uscire rispondere insieme se tu ti senti corresponsabile della tua parrocchia della tua diocesi a un certo punto vai dal responsabile esponi le tue perplessità ma se decidi di essere corresponsabile ad un certo punto tu esci dal coro delle cornamuse sapete i cori delle cornamuse che sono quelli che si lamentano sempre sempre si lamentano sempre il corresponsabile porta il peso delle scelte il peso e che cosa farà quando sentirà una critica forse anche giusta pubblicamente spezzerà la catena della mormorazione privatamente andrà a parlarne privatamente il corresponsabile sa che non deve alimentare il fuoco della mormorazione il corresponsabile sa che non deve alimentarlo assolutamente terzo ammettere e accettare i propri limiti il corresponsabile sa che il primo a sbagliare è lui quarto dar credito vado un po' più lentamente che vedo che c'è gente che scrive dar credito al parere di persone sagge ed esperte dare credito dare credito noi non sappiamo non sappiamo tutto non sappiamo abbiamo bisogno di imparare abbiamo bisogno di imparare quinto il corresponsabile è colui che ha imparato l'arte di tenere insieme le diversità le diversità le diversità sesto possedere la visione globale della missione familiare a cosa siamo chiamati ci siamo mai posti questa domanda come coniugi porcela ma noi due a cosa siamo chiamati qual è la nostra vocazione cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo fare quindi possedere insieme la visione perché magari uno ha una visione diversa e quindi magari percepisce il partecipare a determinate riunioni come un peso cosa siamo chiamati a fare settimo disponibili quello che dicevo prima a diventare adulti nel proprio ruolo disponibili a diventare adulti nel proprio ruolo ottavo curare la vita interiore con il raccoglimento questo purtroppo adesso non abbiamo tempo ma sarebbe un argomento molto importante diceva un padre della chiesa San Giovanni Crisostomo che soprattutto i laici essendo continuamente nel mondo sono quelli che hanno più bisogno dell'aiuto della preghiera sono quelli che hanno più bisogno di riuscire a ritagliarsi in qualche forma momenti di preghiera momenti di preghiera sapendo che i nostri ritmi non sono quelli dei monaci benedettini eppure dobbiamo avere il coraggio di dirci dobbiamo avere il coraggio di dircelo noi non dobbiamo pregare come un monaco ma noi non siamo sulla luna anche noi abbiamo bisogno di fermarci davanti a Dio di chiedere luce a Dio chiedere luce a Dio le nostre domande dovrebbero cambiare così cosa devo fare no? c'è il problema a scuola del ragazzo del lavoro dovrebbero cambiare così anziché dire cosa devo fare cosa dobbiamo fare signore cosa dobbiamo fare dovrebbe cambiare in questo modo le nostre domande signore chiaramente partire dalla preghiera partire dalla preghiera nove rimanere figli per poter essere genitori rimanere figli per poter essere genitori il vangelo di oggi questo è il bellissimo vangelo della trasfigurazione di oggi il padre ci rivela il salvatore del mondo come il figlio prediletto e noi saremo figli nel figlio e più siamo figli più riscopriamo la nostra figliolanza più ci accorgiamo che siamo nelle mani di un padre amorevole più riusciremo a affrontare anche le difficoltà della nostra missione le difficoltà decimo e ultimo consiglio e dopo vado a concludere rendere il carisma familiare storia concreta quotidiana noi si cerca adesso di parlare vi ho dato delle indicazioni insomma ma non noi non possiamo permetterci il lusso di far sì che tutto questo rimanga teoria rimanga teoria noi quando ascoltiamo queste cose quando partecipate agli incontri subito noi dobbiamo come laici subito dobbiamo dirci come posso tradurre in pratica questo come posso cercare di fare cosa cosa devo quando Gesù gli diceva qualcuno che chi è il vero beato secondo Gesù chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica perché quando una volta era fuori uno dice beato il grembo che ti ha lattato il seno che ti ha nutrito e ho pensato Maria tra sé per fortuna qualcuno se ne ha accorto e lui cosa risponde beato piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio attenzione e la mettono in pratica e la lettera di Giacomo dice che chi non mette in pratica la parola di Dio è come chi si guarda allo specchio e va via e si dimentica della propria immagine il Vangelo dice che chi non mette in pratica cioè chi non traduce in storia concreta quello che ha capito è come colui che costruisce la propria casa non la casa di un altro la propria casa sulla sabbia perché voglio dire uno che costruisce la casa di un altro sulla sabbia è un furfante ma uno che costruisce la propria casa sulla sabbia è un folle e non riuscire a mettere subito in pratica ad esempio se c'è qualcosa sull'educazione che vi pare che vi abbia colpito che nei vostri gruppi nelle vostre riunioni nel programma diocesano che vi pare vi abbia colpito chiedetevi subito come posso cercare di metterlo in pratica e concludo una cosa che mi sta molto a cuore la corresponsabilità crea comunione la corresponsabilità crea comunione il corresponsabile produce comunione il corresponsabile produce una comunione effettiva il corresponsabile è colui che sa la differenza tra efficienza ed efficacia l'efficiente è colui che mette il risultato al primo posto l'efficiente allora uno si sente efficiente l'efficace è colui che mette le relazioni al primo posto un'azione realmente efficace è quell'azione che privilegia la relazione la relazione il papa papa francesco ha dato tre suggerimenti col suo stile immediato molto interessanti su come creare comunione avete presente le tre parole che lui suggerisce no? permesso grazie e scusa le ripetiamo no? permesso grazie e scusa questa è corresponsabilità è permesso discrezione pensate nella relazione di coppia nell'educare i figli nel nostro modo di entrare nelle loro stanze nella loro vita nelle loro abitudini nelle loro convinzioni permesso permesso grazie la gratitudine ma ve lo immaginate se noi ci imponiamo per tre mesi noi noi qua eh noi a casa noi coniugi qua non ci sono figli vero? no noi così non ci sentono il nemico non ci sente noi per tre mesi decidiamo di scommettere sul grazie a casa facciamo circolare la parola grazie allora tu esci in cucina ci sono i tuoi figli tu non dici niente ai tuoi figli ti rivolgi a lei e gli dice tesoro grazie che ho trovato la camicia stirata nel cassetto il figlio mai aveva sentito grazie che hai fatto grazie no e far girare questo grazie guardate che questa è pura corresponsabilità evangelizzatrice pura corresponsabilità e soprattutto chiedere scusa chiedere scusa voi sapete che è più efficace che i nostri figli ci sentano dire scusa che dire loro dovete dire scusa dovete dire scusa e concludo veramente ho cinque minuti ho paura di aver sforato sì va cinque minuti è perché volevo riprendere un episodio non lo leggo se no ci prende perché voglio lasciare il tempo per i vostri laboratori come avete notato è un tema che mi affascina tantissimo guardate qua si gioca la nostra presenza nella chiesa e nella società si gioca la nostra felicità più siamo corresponsabili più siamo felici più siamo corresponsabili più siamo realizzati questa è la verità allora c'è un episodio nella Bibbia che ha dato il titolo anche al nostro intervento ti voglio dare un consiglio vi parlavo di sinodalità che è una forma bellissima che la chiesa propone sinodos camminare strada cammino insieme sin il modo sinodale che la chiesa ha privilegiato ci sono diversi modi è quello del consigliare del dare un consiglio i sinodi servono soprattutto questo dopo bisogna aver chiaro chi ha la responsabilità della decisione ultima ma la corresponsabilità è riuscire a dare i consigli lasciatemi dire questa battuta la prima volta che sono venuto a parlare in Sicilia tanti tanti capelli bianchi fa allora era stato a Caltanissetta c'era Monsignor Garzia a Caltanissetta era d'estate proprio la prima era appena finito gli studi romani e mi avevano invitato a parlare e c'erano alcuni vescovi e c'era Monsignor Garzia che era di una umanità straordinaria mi aveva accolto aveva visto anche che era un po' timoroso a pranzo un caldo non so se sapete ma d'estate in Sicilia per un montanaro cioè mi avevano portato a visitare la valle dei templi io mi sentivo un budino che si stava tutti camminavano normalmente io iniziavo a vedere sai le oasi i miraggi un caldo alla fine mi avevano ho visitato la villa romana tutte cose alla fine a pranzo e il vescovo mi aveva gentilmente ospitato accanto a sé io morivo dalla sete e nessuno beveva nessuno beveva e io ero imbarazzato non sapevo come muovervi potete immaginare 15 anni fa ero timoroso non avevo il colore e anche Monsignor Garzia mi incuteva un po' di soggezione insomma ero così ma era molto molto buono a un certo punto non ce l'ha fatto perché o morivo disidratato o c'era bottiglie del vino bottiglie dell'acqua eccetera e per iniziare intanto che arrivavano le 10-20 portate di antipasti siciliani io prendo la bottiglia di acqua e non volevo versarla prima a me io non vedevo l'ora di bere io però per galateo faccio per versare l'acqua a Monsignor Garzia a proposito ti voglio dare un consiglio Monsignor Garzia mi disse col vostro bel dialetto che io non non riproduco perché non ce la faccio dottor Vivaldelli in Sicilia l'acqua e i consigli se non glieli chiedono non li dia mai perché lui voleva un bicchiere di vino voleva no? l'acqua e i consigli se non glieli chiedono non li dia mai ma era una battuta ovviamente invece la corresponsabilità soprattutto un vescovo ama chi gli dà un consiglio dato col cuore col cuore perché un conto è dare una critica vestita da consiglio no? quando è che una critica è vestita da consiglio? quando esordisce così non volevo dirtelo e allora tu gli dici subito non dirmelo non dirmelo nessuno ti costringe tu sei una creatura libera sta zitto no? perché non ve lo dite è una bastonata no? il consiglio il consiglio deve quasi sentire la voce che trema e più il consiglio affonda le radici in un problema delicato più tu devi essere insicuro consapevole che il tuo è soltanto un parere che però in coscienza davanti a Dio ritieni di dirlo ritieni di dirlo e dopo ti liberi di quel consiglio lo lasci nel senso che non ti aggrappi della serie qualunque cosa sia decisa dopo tu non sei giudicato se è fatto o non è fatto quel consiglio tu hai cercato di esporre il tuo cuore cioè cerchi di far sentire al vescovo in questo caso ma anche al parroco ai responsabili di pastorale ai responsabili dei vostri gruppi parrocchiali che non sono da soli che non sono da soli che tu senti la loro missione come tua come tua e riconosci il ruolo di responsabilità e questa è corresponsabilità la corresponsabilità guardate richiede la pena la sofferenza richiede la sofferenza la corresponsabilità è molto più facile criticare molto più facile criticare trovare ma si ho fatto quello ma c'è ma potevano fare anche la stanza la sala potevano trovare una sala senza pilastri che quelle lì non mi vedono non mi vedo ecco vedi quella non mi vedo ma insomma la sala non gli va mai bene niente e uno non si chiama ma io cosa ho fatto per cercare una sala per dire un esempio a caso allora l'episodio biblico l'icona biblica con il quale vorrei concludere è tratto da una situazione molto bella molto familiare tra Mosè e il suo suocero Ietro se ne parla al capitolo 18 del libro dell'Esodo il secondo libro della Bibbia sta di fatto che cosa ha fatto Mosè arriva lì voi sapete la vicenda di Mosè più o meno la conosciamo al capitolo 18 è un Mosè un po' particolare nel senso che è un Mosè che ha fatto sì un'esperienza di fallimento di fuga di deserto ma ha anche fatto l'esperienza della rivelazione del nome è rovetto ardente lui ha sentito la volontà di Dio lui si è percepito mediatore della volontà di Dio ha collaborato è stato corresponsabile della liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù d'Egitto attraverso il Mar Rosso e stanno camminando nel deserto e lui è diventato il responsabile il corresponsabile ma sulla terra il responsabile del popolo di Dio se non che si incontra con suo suocero Ietro guardate che il termine la specifica suocero nel capitolo 18 ricorre più di 10 volte proprio per dire il clima familiare quindi è molto a tema nel nostro incontro a un certo punto il suocero si accorge che Mosè questo Mosè questo Mosè è schiacciato dalle sue responsabilità tutti vanno da lui tutti vanno da lui deve gestire tutto tutti andavano a chiedere un consiglio tutti tutti e lui il suocero si mostra come un corresponsabile e ha il coraggio di dire ora ascoltami ti voglio dare un consiglio ti voglio dare un consiglio e Dio sia su di te cioè lui si espone tenete presente che Ietro è un sacerdote di Madian cioè pagano è un pagano si espone e gli suggerisce di trovare dei corresponsabili che gestiscano l'organizzazione del popolo di Dio a gruppi di 100 di 50 i corresponsabili di un'unica missione beh allora sottolineiamo due cose la prima certamente la grande corresponsabilità del suocero non ha lasciato Mosè da solo ed è interessante che lo abbia fatto dopo che Mosè abbia detto tutte le meraviglie che il Dio di Israele non il Dio di Ietro che il Dio di Israele ha fatto e lui Ietro è molto libero lui è liberissimo ha percepito l'agire di Dio e si è sentito ha percepito che Dio stava agendo con Mosè capite il corresponsabile a questa libertà interiore allora pensate come coniugi il riuscire a percepire che Dio sta agendo attraverso un consiglio un parere un atteggiamento del coniuge essere liberi anche se non corrisponde ai tuoi schemi ma percepire che Dio sta agendo in quello o in quella iniziativa questo dal punto di vista di Ietro ma dal punto di vista di Mosè Mosè è straordinario Mosè dimostra una umiltà straordinaria Mosè si lascia aiutare da un pagano Mosè riesce a percepire il soffio dello spirito nel consiglio di un pagano non solo l'umiltà di Mosè consiste anche perché il corresponsabile lui era corresponsabile con Dio del popolo di Israele il corresponsabile è una persona umile perché pensate Mosè lui che aveva ricevuto tutta quella popò di rivelazione da parte di Dio ma rivelazione diretta aveva compiuto prodigi Dio gli aveva parlato ma guardate non gli aveva detto come gestire il popolo è una cosa importantissima Dio non gliel'aveva detto e uno si chiede perché non gliel'aveva detto perché caspita gli ha rivelato il nome poteva anche dirgli guarda per l'organizzazione fa così perché certe cose c'è bisogno della corresponsabilità matura e adulta dei membri del popolo il popolo deve crescere nella prospettiva biblica il popolo cresce se si aiuta nella corresponsabilità noi come coppie cresciamo se ci aiutiamo nella corresponsabilità se ci educhiamo la corresponsabilità come famiglie nei confronti dei nostri figli cresciamo se ci educhiamo alla corresponsabilità l'educazione è faccenda di tutti e due di tutti e due nella chiesa nella parrocchia nella nostra realtà ecclesiale noi ci realizziamo come famiglia se ci percepiamo corresponsabili quindi riuscire a fermarsi e valutare se c'è un consiglio non una critica un consiglio da dare in questo sta la nostra gioia in questo sta la nostra gioia e concludo dicendo la corresponsabilità direbbe San Paolo ne abbiamo parlato mi pare due anni fa è il segno efficace di quanto noi ci stimiamo quando San Paolo dice gareggiate nello stimarvi a vicenda dice se io mi assumo la mia parte di responsabilità significa che stimo il suo la sua responsabilità stimo il lavoro che viene fatto stimo il mio coniuge stimo i miei figli stimo i miei figli grazie per la vostra attenzione grazie grazie a tutti